Mancini Proietti passa con gli atti di fine anno da consulente gratuito a dipendente a tempo determinato della provincia di Arezzo. È quanto sostiene il gruppo consigliare Centro e Sinistra per Arezzo che in una nota segnala la situazione che si sarebbe creata in provincia. Nulla da eccepire, viene precisato circa la correttezza formale dell'incarico, ma soprattutto riguardo la sua opportunità. Ecco, ci spieghi un po' queste consulenze, insomma, come sono state determinate e cos'è quello che voi contestate? Allora, la provincia di Arezzo aveva proceduto nel 2020 a una consulenza a titolo gratuito di Mancini Proietti per poi passarla a fine dell'anno 2020 a titolo neroso. Secondo noi questo non era opportuno perché nell'interrogazione che avevamo posto su questa consulenza a titolo gratuito c'era stato spiegato che veniva fatta questa operazione per la generosità appunto del consulente nei confronti della provincia e della collettività. Che cosa serviva questa consulenza? Come un affiancamento da Presidente negli affari interni della provincia. Quello che riteniamo poco opportuno è che in una fase di pandemia in questo modo si vada a scegliere un consulente in modo fiduciario e a titolo neroso quando molti aretini ed italiani invece hanno molti problemi economici dovuti alla pandemia. Ok Grazie a tutti.